Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti nel nuovo video della disponibilità del 5 novembre 2022 di Discus, Piante e quant'altro. Partiamo subito con una rapida carrellata. Allora, White e Red Leopard, questi qua sono tutti Stendker, Red Scribert, affrettatevi a fare gli ordini perché più tempo passerà e meno disponibilità ci sarà. Green Angel, Marlboro Red, Check Board, Snake Skin Red, Snake Skin Blue, Dark Angel e Leopard, Snake Skin, Pigeon Blood Silver, Cobalt Solid, Pigeon Blood Blue e Pigeon Blood Red. Vedete sul sito i tour che faremo prossimamente, sabato 26 saremo in Basilicata, Calabria e Sicilia, prenotate la vostra consegna di Discus. Rosso Turchese, Tefe, Solid Turquoise, Solid Turquoise, Baia Santa Rotta Remma, Turchese, Brillante, Verde Snake, German Wonder, Alenquer, Blue Diamond, Red Rose, Turchese, Turchese Brillante, German Wonder, Verde Snake, Turchese Brillanti, Blue Diamond, Turchese, Rossi, Turchese, Rossi, più grandi, giallo checkboard e Cobalt, Snow Leopard e Cobalt Red Vane, Leopard Plus e Turchese Rosso High Body. Ok. Poi, una rapida carrellata, microfauna, petitelle, neon cardinali, barbus titteia, rasbore, brachidaneo, bozia, ancistrus, sporidoras, scalari e quant'altro, betta, betta rossi, eckel cross, pigeon blood red e santa remica, ancora eckel cross, santa remica, blue snake, cobalt, santa rem blue rim e full spotted leopard, ok quindi come potete vedere di disco se ce ne sono tantissimi, prenotate le vostre consegne per l'omnia pet on the road, faremo il 26 novembre il sud Italia e Sicilia e i primi di dicembre il resto d'Italia, il centro nord Italia, quindi prenotate, ordinate fin quando almeno l'allevamento Stendger ci darà la disponibilità, con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video, alla prossima disponibilità, ciao a tutti da Peppe